Gli agenti della divisione PAS della Questura di Lecce hanno notificato al titolare di un esercizio di vicinato sito a Lecce in via Marinosci il provvedimento emesso dal questore della provincia di Lecce, Massimo Vincenzo Modeo, ai sensi dell'articolo 100 del TUPs di sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento di chiusura si è reso necessario in seguito a numerosi controlli eseguiti dagli agenti delle volanti che hanno evidenziato come, proprio il suddetto esercizio, si sia presentato come un luogo dove si riuniscono in maniera assidua persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli effettuati già a partire dal mese di gennaio sono partiti anche in seguito a numerose segnalazioni giunte proprio dai residenti che lamentavano una situazione di degrado e di compromissione delle condizioni di vivibilità della zona, divenute critiche e non tollerabili. L'esercizio, tra le altre cose, risultava peraltro recidivo. Già nel 2019 era stato destinatario di un alto provvedimento di sospensione della licenza, proprio per gli stessi motivi.